Allora, passerei subito la parola all'avvocato Guido Scorza, componente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, perché credo che sia stato più volte come autorità chiamata in causa. Anche nel messaggio del ministro si ricorda l'importanza della governance e della regolamentazione dei dati sanitari. Allora, avvocato Scorza, riusciremo a trovare un equilibrio tra regole e diritto alla salute? Allora, intanto buongiorno, grazie per l'invito. Dico subito, avessi le slide, userei un bel disclaimer, sono un quarto del garante. Non lo dico per mettere le mani avanti, quello che dico vale di meno o quello che dico non ne tenete conto. Lo dico piuttosto perché io credo che occasioni di confronto come queste hanno un senso se si travalica quella linea di confine che specialmente in questi contesti normalmente la fa da padrone della ingessatura istituzionale e ci si dice le cose come le si vedono per davvero e questo io non posso farlo se non dopo aver detto sono un quarto, ci sono altri tre quarti, il garante è un organo collegiale ma questo mi libera in parte delle mie responsabilità, mi consente di garantire e difendere la reputazione dell'autorità pur parlando nell'unico modo in cui per la verità sono capace di parlare cioè nella maniera più schietta possibile. I miei sette anni al garante finiranno, io non avrò imparato come si sta nelle istituzioni, ma pazienza insomma, diciamo che ognuno ha i suoi limiti che io ho è evidentemente questo. Grazie per l'organizzazione di questo incontro, grazie per il cammino che si è fatto nell'arrivare fin qui. Credo che siamo qui non per noi, non siamo qui per chi fa ricerca, non siamo qui per chi opera in medicina, non siamo qui certamente per chi si occupa di protezione dei dati personali, siamo qui per le persone. Siamo qui per le persone davanti alle quali abbiamo un dovere comune e il dovere che abbiamo davanti alle persone è il dovere di garantire loro il diritto a non dover scegliere tra diritti. Il diritto a non dover scegliere tra il diritto alla salute, il diritto alla privacy e il diritto all'innovazione per entrare immediatamente nelle cose delle quali stiamo discutendo. Non c'è niente di più odioso in democrazia che chiedere ad una persona, che sia o che non sia cittadino, di scegliere tra diritti fondamentali. E il diritto alla salute, il diritto alla privacy, il diritto all'innovazione, che è la più naturale proiezione del diritto a fare impresa nel 2024, sono diritti fondamentali. Nella nostra carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sono lì, l'uno ha pochi numeri di distanza dall'altro. Ed è la stessa carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che in realtà quando arriva in fondo dice attenzione, perché non c'è diritto fondamentale che non sia soggetto, che non possa essere soggetto a compressioni per garantire l'esercizio di altri diritti fondamentali. Ma, per dirlo subito, utilizzando le espressioni dell'intelligenza artificiale, l'algoritmo di compressione, l'algoritmo di bilanciamento, è un algoritmo molto molto chiaro, almeno in termini di principio, e dice che ogni diritto deve farsi più piccolo, nella misura minima necessaria a garantire l'esercizio di un altro diritto. Non è ammessa tra i diritti fondamentali la prevaricazione. Non esistono, e ce lo ricordo da tempo la nostra Corte Costituzionale, diritti tiranti. Non può il diritto alla salute dire, io sono più importante, del diritto alla privacy e quindi via la privacy e dentro la salute, non può il diritto alla privacy dire, la privacy delle persone viene prima del diritto alla salute, e quindi chi se ne frega della salute dobbiamo difendere la privacy, non può il diritto all'innovazione o l'intelligenza artificiale che avanza, e dire chi se ne frega degli altri due, ci sono io che rappresento il futuro. La parola d'ordine è bilanciamento. E l'algoritmo di bilanciamento è solo ed esclusivamente quello che vi ho appena ricordato. Ogni diritto si comprime, ma non si cancella, ma non si salta, ma non si dimentica, per far posto all'altro diritto nella misura minima necessaria che questo sia possibile. Qui c'è secondo me un primo messaggio molto importante da mettere al centro di una giornata bella come questa, ed è via in ogni contesto, a cominciare da quelli istituzionali, l'idea dell'antagonismo tra diritti. L'antagonismo tra diritti, il diritto nemico, il diritto avversario, non esiste, non ha cittadinanza in democrazia. Quando questo accade il risultato è assolutamente scontato. Ci si divide in fazioni contrapposte, un diritto trova i suoi supporti, l'altro diritto trova i propri supporti, a seconda dei periodi vince uno e vince l'altro e si procede a strattare. È esattamente quello che è accaduto e che continua a accadere nell'universo della sanità. Arriva l'emergenza e vince la salute, passa l'emergenza, ritorna la privacy, arrivano i soldi e va avanti l'innovazione e andiamo avanti così, da un certo numero di anni e questa storia la conosciamo tutti quanti. Il GDPR, il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è oggetto in questo ambito, cioè nell'ambito della salute, più che altrove di un fraintendimento epocale. quello non è, non vuole essere, non deve essere un regolamento di protezione dei dati personali. Il titolo del GDPR, quindi come dire, non è l'interpretazione o l'allucinazione per riprendere un termine dell'intelligenza artificiale di un quarto del garante. Il titolo del GDPR, per esteso, dice, regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché sulla loro libera circolazione. Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, per come tutti quanti, complice l'acronimo, tagliamo normalmente il titolo, è un regolamento di protezione ed è un regolamento di regolamentazione della circolazione dei dati. È stata ricordata poco fa l'esperienza della pandemia, uno stress test senza uguali, diciamo, nell'universo dell'antagonismo narrato dei diritti, ma uno stress test che l'Europa ha superato a pieni voti, direi, nel senso che il Green Pass, il passaporto sanitario che l'Europa si è dato e che ha messo in terra in 15 giorni, è stato possibile solo ed esclusivamente perché in Europa, in quel momento, vigevano, attraverso il GDPR, delle regole comuni sulla protezione e sulla circolazione dei dati. Altrimenti magari lo avremmo avuto il Green Pass, ma mai in 15 giorni. Non sarebbe mai stato un QR code, quei dati non sarebbero mai stati nei nostri smartphone, perché nessuno se la sarebbe sentita di dire, ma sì, portali pure in Francia, portali pure in Germania, portali pure in Belgio, perché tanto è la stessa cosa. No, non sarebbe stata la stessa cosa. Quindi il GDPR, intanto, io suggerirei di guardarlo anche in questo universo come un allontano. Poi arriverà di più, poi arriverà di meglio, poi arriverà il Data Act, poi arriverà l'implementazione del Data Governance Act, poi arriverà lo spazio europeo dei dati, poi arriverà di più, ma guardate che nessuno di questi nuovi provvedimenti che riguardano i dati, si è sognato neppure per un istante di derogare in nulla al GDPR. C'è una costante che trovate in tutti, considerando di tutti questi tre diversi strumenti di regolamentazione, come d'altra parte nel prossimo venturo Artificial Intelligence Act, ed è fatto, salvo e rispetto del GDPR. Non c'è mai in deroga al GDPR, ma non è che non c'è per un senso di rispetto verso la privacy, cosa che insomma in questo momento della mia vita mi piacerebbe moltissimo. Non c'è perché non c'è bisogno che ci sia, posto che il GDPR non è un testo di protezione, ma è un testo di regolamentazione della circolazione. Quindi questo secondo me è un primo dato che noi dobbiamo assolutamente tenere presente. Ora provo rapidissimamente ad andare dal generale al particolare, e poi mi taccio facendo, dico una cosa che dicevo fin quando ho fatto l'avvocato, ma insomma tanto prima o poi lo tornerò a fare, e quindi vale ancora il regalo più bello che un avvocato può fare, soprattutto se è italiano, a gente a cui vuol bene, cioè rimanere in silenzio. Io credo che proprio perché le cose stanno così, e cioè perché siamo alla ricerca di una posizione di bilanciamento, è necessario venirsi incontro da tutte e due le parti, ma è necessario muovere il primo passo dicendo non sto rinunciando a qualcosa, non sto facendo una transazione, per utilizzare un altro termine della mia vita, che fu e forse che saranno, sto rinunciando a dei diritti miei per qualcun altro, sto semplicemente plasmando il diritto del quale in questo momento sono garante ad uso e consumo delle persone, che è la ragione per la quale quel diritto esiste. Allora qui, diciamo, io faccio come dire il mia colpa collettivo da parte delle persone della privacy, talvolta un po' di integralismo, che sia nativo o genetico, probabilmente è l'espressione migliore, o che sia figlio di una reazione, perché poi, come dire, quando ti trovi a tutelare, un diritto che è debole, perché insomma, prendiamo il cittadino, ed è la ragione per la quale anche egoisticamente dico mai all'antagonismo, mai a porre la persona davanti alla scelta tra salute e privacy, perché se fossimo andati in giro come qualcuno è andato in giro in pandemia, a dire ma vuoi star bene rinunciando a un po' della tua privacy, o vuoi star meno bene mantenendoti la tua privacy? Insomma, la risposta è scontata, non servono grandi istituti di ricerca o exit pool. La salute la percepiamo tutti quanti sulla pelle, la privacy no, salvo che non arrivi il momento più buio e la dimensione di emergenza dal punto di vista della dignità della persona. Quindi questo non deve naturalmente accadere, se accadesse usciremmo noi della privacy con le ossa rotte, perché le persone comprensibilmente percepiscono come più urgente la salute, ma aggiungo percepiscono come molto più cool, molto più sexy, come molto più utile anche l'intelligenza artificiale e l'innovazione che avanza. Quanto ce ne frega a noi tutti qua insieme, quanti dati nei nostri smartphone circolano e vengono utilizzati, se averlo in mano ci rende la vita straordinariamente più semplice. Quindi diciamo per carità, tutto quello che dico è in parte altruismo e convinzione, è in parte pure egoismo, perché sicuramente chi fa da garante di un diritto fondamentale non ha proprio niente da guadagnare a che la privacy vada in rotta di collisione con altri diritti, in particolare se preziosi ed importanti come la salute. E però perché questo ragionamento sia utile, io devo dire una cosa scomoda e anche una cosa politicamente scorretta probabilmente, che è la seguente. Se è vero che questi due o tre diritti sono pari e ordinati, allora significa che quando si costruisce un progetto, in sanità, le competenze che devono esserci dal giorno zero nel costruire quel progetto devono essere bilanciate e devono essere ugualmente rilevanti in tutti questi assi. Io non posso pensare di costruire un progetto in sanità affidandolo solo ed esclusivamente a dei ricercatori medici o scientifici. Io non posso pensare di costruire un progetto nell'universo della innovazione affidandolo solo ed esclusivamente a dei data scientist o dagli ingegneri dei dati. Io non posso pensare di costruire quel progetto affidandolo esclusivamente a degli esperti di privacy. E però troppo spesso questo accadde. Io, diciamo, come dire, lo dico rendendomi antipatico probabilmente a molti dei presenti, ma insomma nella indennità che ci danno c'è anche una quota a parte che dice poi per sette anni devi prenderti gli insulti e le critiche, quindi va bene così, ci pagano anche per questo e non c'è nessun problema. Molto spesso i progetti sono costruiti guardando all'obiettivo solo ed esclusivamente da una prospettiva. E nell'universo della salute come nell'universo dell'innovazione, ma oggi parliamo dell'universo della salute e in particolare della salute in digitale, le competenze in termini di protezione dei dati personali sono povere. E io, diciamo, lo dico senza grande senza grande esitazione, diciamo tre anni e mezzo dopo averlo visto dal garante e venticinque anni dopo averlo visto da avvocato. Queste competenze spesso manchano perché l'investimento maggiore va sugli ambiti, diciamo, più strettamente sanitario sulle cose dell'innovazione e si pensa, diciamo, di poterci mettere in una parte. Questo comporta un risultato più ricorrente di altri. Ormai tre anni e mezzo dopo investiti in buona parte a girare per l'Italia, io devo dire che in un numero enorme di casi mi sono trovato di fronte a soggetti che vogliono fare ricerca in ambito medico scientifico, che vogliono provare a fare innovazione in ambito medico scientifico e mi dicono ma il DPO il mio DPO il mio Data Protection Officer il mio responsabile per la privacy mi ha detto che non si può fare. E molto spesso quel non si può fare è più integralista della risposta che avrebbero ricevuto se avessero parlato con i più ortodossi dei funzionari e dei dirigenti del garante. e questo capita con una frequenza inaudita perché naturalmente fatevelo dire da chi per 25 anni ha fatto l'avvocato se fai l'avvocato come dire e scrivi un parere utilizzando il condizionale potrebbe dovrebbe forse che sì e forse che no tu diciamo non rischi mai che quello lì poi ti dica ma hai sbagliato perché ha usato il condizionale e se io ti fermo prima che tu inizi quel progetto prima che tu inizi quel trattamento prima che arriva il garante e ti dice che non si può fare insomma tu tendenzialmente la prova del 9 del quanto ne sai la superi la superi la superi sempre quindi una iniezione di competenze vere e competenze significa porre chi fa un lavoro diverso e cioè il medico e cioè lo scienziato e cioè l'esperto di innovazione nella condizione di dire in maniera più o meno binaria per quanto esistono cose binarie in un mondo che va di corsa lo puoi fare o non lo puoi fare assumiti la tua responsabilità da Data Protection Office eventualmente parla col garante che insomma per carità è vero che sia 160 persone per 60 milioni di cittadini e che in Germania sono mille sono 90 milioni un po' meno di cittadini però insomma diciamo non siamo così tanto irraggiungibili porta a casa una risposta condividila con le persone con le quali lavori quindi questo secondo me è un tema fondamentale cioè la competenza interdisciplinare dentro qualsiasi progetto nel quale si voglia mettere insieme salute e innovazione altrimenti non si va da nessuna parte se arriva il garante il garante dice no ma non è che dice no per capriccio dice no perché quella cosa è costruita magari benissimo dal punto di vista dell'obiettivo scientifico benissimo dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche messe a terra ma malissimo dal punto di vista della protezione dei dati e non è che non si possa fare quella cosa si può fare ma si può fare in maniera diversa e però non è che stia al garante diventare il consulente del singolo capo progetto del singolo ministero del singolo del singolo dipartimento quindi diciamo questa secondo me è forse una delle cose più importanti ne aggiungo non so forse sono fuori tempo massimo ma insomma ne aggiungo due e poi mi taccio non è che la disciplina europea sulla protezione dei dati personali sia un monoliter per noi giuristi una disciplina è entrata in vigore cinque anni fa è una ragazzina e quindi è quasi sacrilego pensare che che possa non essere perfetta che possa non essere al passo con i tempi però è anche vero che in questi cinque anni pandemie guerra e intelligenza artificiale inclusa è successo tutto questi cinque anni valgono forse cinquecento di qualche di qualche di qualche anno fa e allora qui è un'altra cosa che a me lascia molto molto perplesso a proposito diciamo delle cose scomode da dire ma nel tentativo di produrre invece risultati utili per tutti anche in Italia così come in Europa l'ordinamento è straordinariamente liquido tutti svegli il lunedì mattina e trovi che quello che pensavi di sapere nella circolazione stradale piuttosto che nelle cose della scuola è completamente cambiato soprattutto in una stagione nella quale tanto le leggi oggettivamente il Parlamento non le fa più le fa il governo e il governo ha dei tempi di regolamentazione nel bene e nel male che sia costituzionalmente sano costituzionalmente insano assolutamente assolutamente breve perché qui no non è che quando io leggo o quando qualcuno mi dice ma se io devo fare una ricerca ho bisogno del consenso all'estero no e se io non ho il consenso ho bisogno di chiedere un'autorizzazione al garante e il garante ci mette sei mesi a darmi quella quella roba lì è scritto dentro un articolo è il famoso articolo 110 diciamo per gli addetti ai lavori di una legge italiana che è come tutte le leggi italiane nella assoluta potestà di chi quelle leggi la mattina può ripensarle e scriverle diamoci insieme e ragioniamo di come modificarle quelle norme ma il garante soprattutto nell'ambito della ricerca medica o scientifica abbraccerà il codice privacy a due mani e dirà questo non vogliamo non vogliamo modificarlo però non ho mai visto una proposta di modifica ne ho sentito parlare a bizzef nei convegni più diversi ma mai ho sentito una proposta di modifica del codice privacy in quest'ambito troviamola facciamola equilibrata c'è bisogno di un'autorizzazione per ogni progetto di ricerca forse no si può fare un'autorizzazione generale come c'era una volta poi è arrivato il GDPR e si è detto non si possono fare più si può fare un'autorizzazione generale che abbracci i tre quarti dei progetti di ricerca possibili resterà fuori un quarto per i tre quarti chi fa ricerca ha la sua checklist e dice se sono in questa griglia anche senza consenso vado avanti per il quarto rimanente bussa al garante e chiede l'autorizzazione come si fa oggi noi evitiamo di averci quattro persone che devono dare 60 pareri in un anno perché quelle quattro persone le danno 20 le danno più rapidamente e magari le scrivono in maniera ancora più più accessibile la ricerca e la ricerca ci guadagna questo è come dire uno degli esempi ma anche nella dimensione europea ma insomma non è che ci siano monolichi perché noi poi siamo un po' i terminali di una catena piuttosto piuttosto lunga ogni tanto qualcuno mi dice ma perché non l'autorizzate il garante le leggi non le scrive il garante le leggi le applica però le leggi si possono modificare non le modifichiamo certamente certamente noi il consenso tanto idolatrato faccio come dire il gesto che è l'unico gesto che da qui posso fare è di buona fede chiudo l'iPad come dire assegno che mi sto effettivamente per tacere il consenso tanto idolatrato da più parti come base giuridica del trattamento io vi dico in tutta franchezza forte di quel disclaimer sono un quarto secondo me soprattutto nell'ambito della salute e della ricerca scientifica è veramente supervalutato è veramente sopravvalutato perché è un retaggio di ipocrisia giuridico istituzionale della quale possiamo volentieri fare a meno voi ditemi quando una cittadina una persona paziente richiesta di un consenso in ambito medico scientifico capirà per davvero quello che gli si sta chiedendo e risponderà per davvero in maniera libera essendo inesorabilmente in una condizione di fragilità perché se è arrivata lì è verosimilmente in una condizione di fragilità propria o di qualcuno a cui vuole bene ma a prescindere da questo ma chi è quel mago delle parole dell'italiano di una lingua diversa che riesce a far capire ad una persona quali sono le mille implicazioni medico-scientifiche dietro ad un progetto di ricerca però diciamo oggi c'è nell'ordinamento giuridico europeo non è che ce l'abbiamo noi in Italia possiamo rivederlo possiamo discuterne possiamo trovare uno stato che dice faccio io è diritto pubblico è un interesse pubblico fare ricerca dico io che quando ricorrono questi presupposti la ricerca si può sempre fare e chi potrebbe mai opporsi da questo punto di vista al legislatore coglierei questa occasione per due richiami di metodo a lavorare a continuare a lavorare insieme uno si chiama interdisciplinarità senza non andiamo da nessuna parte e il secondo è non pensiamo che tutto possa o debba essere risolto nelle regole che ci sono oggi perché sbaglieremmo perché il mondo è cambiato e chi fa ricerca scientifica o chi cura le persone lo sa meglio di tutti per fortuna il mondo è cambiato oggi si possono far cose che ieri non si potevano fare io credo che in uno spazio di tre o cinque anni ma insomma non so se Felicia vorrà organizzare poi un altro incontro tra cinque anni e ce lo diremo la stessa linea di confine tra il dato comune e il dato sanitario si è destinata a saltare perché nella dimensione dei big data tu mi dai tre dati comuni io ti restituisco un dato sanitario questo è vero oggi domani tra big data e intelligenza artificiale vogliamo non essere certi che saremo davvero così io ti dico come ti vesti la mattina e io ti dico e tu mi dirai che patologia hai o più verosimilmente hai o hai al 90% ma quel 90% ci basta come oggi ci basta che il navigatore satellitare ci dica il 90% lì non trovi non trovi non trovi traffico quindi dobbiamo rivederle anche le regole ragioniamo insieme grazie grazie a tutti grazie a tutti